Che cazzo è? Ciao ragazzi, vediamo un video oggi qui con me in città Ciao eh E oggi giochiamo a cacchi e vediamo che ora fanno incontro poi nel prossimo video fanno incontro capito? e lui ora vengo io ok ecco qua io sono bellissimo che andiamo in lato e adesso fanno incontro ecco qua avrà io ho 10 anni di riuscire a farlo che riuscivo che non riuscire gani un secolo avanti questo cazzo di robot è pronto? aiutami dove lo metto? sono giallo metterla qua? si metta vai dai già abbiamo giusto caglie ok qua venga pastato pastato abbiamo giusto dai 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 a far dai a far vai a far no c'ha chiuso pastato no a far no a far vai faccio io vai 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 no a要 cerchio faccio io vabbè se ne va per il culo guarda per culo no c'è affatto che ha comato fra con lo io è posto no france fatto che ha comato non si vede non si vede non si vede faccio io grazie vai io ho girato ecco bravo ho incurato vai vai grazie la facciamo ah c'è un culo va bene qua abbiamo questo c'è un culo se per chi vuoi io lo voglio vedere dai venga c'è chiuso no c'è chiuso abbiamo due non c'è fame c'è chiuso no c'è chiuso fra c'è chiuso guarda c'è chiuso muovi questo dai 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 io non ci rido dai non ci rido come c'è chiuso no dai no vabbè c'è chiuso c'è chiuso ma vabbè che gioco che non vede c'è un minuto che ci ha messo non c'è chiuso ...d'accordo, dai... ...sci e vuoi, vai... ...vai, scegli e vuoi... ...vai... ...vai... ...pagano di sottotitolo... ...vai... 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 ...bravo... ...vai... 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 ...ok... vai... ...vai... 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 Prendo! No! S'ha chiusa a frenare la volta! Plica! No! Plica! Ecco! Fede rosa! Ecco! Chiudilo! Che pastardo! Nammami! C'è? Ah vabbè! No! C'è chiuso! Paffanculo! E com'è? Cosa? Cosa? Chiudilo! Non la vinci, ragazzo, la partita! Non la vinci! Non la vinci, cazzo! Bravo! Bravo! Chiudilo! Bravo! Tra کوcal! Chiudilo! Chiudi! Bravo! Și! Klicca wilderness! Bravo! Vai! Bravissimo! Ok? No! Se la pegue Fran! Nadie! Nadie! Ok! Mo' viaggio in questo! Bravo! La Fran non è fai inculare! No è fai inculare eh! No la Fran! No la Fran! Se la muove quello! Venga eh ci ha fatto un raccomando! Perché lui se muove quello! Accu a me! Accu a me! Accu a me! No accu! Accu a me! Non fai! Non fai! Che se lui via quello! Via quello ha fatto un raccomando! No! Cazzo! Eh! Non fai un raccomando! Se no prendiamo! No! C'è la prima! Vai! Ok! Ok! Un clamor fanno un m�를! Cazzo! Sì! No! Cazzo no гuva! Perchè per примувати! No! Se ti rec »i rosa! Ok! No! Il正 es dieseere! no frano com'è possibile, dai io sono ben fugga io a farlo, no riga, no riga dai, che vivere con me non è possibile, non è possibile c'è dai dai riga veramente, c'è dai io. Fai a far cura allora! Dai Riga, eh! Ti assaggia più a per culo! Dai Riga, no 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 dai! Ci riprovi! Certo! Vai! Ci riprovi! Guarda, guarda a me! Fai una cosa! Ho un cuoco subito! Metti quello qua! Quello? Quello qua! Poi vedi, ci ripensiamo dopo! Ok! Vai! Vedi prima quello! Vai! Ok! Non quello subito! Non quello subito! Questo qua! Questo qua! Vai! Ci ha perso una volta! Vai! Un cuoco noi! Vedi? Vai! Ok! Ok, subito subito! Un cuoco! No! Vedi a fra! Vedi! Vedi! Cazza! Vai! Cazza! 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 no dai no dai no dai cos'è lìa oh goddio ok perfetto vai no dai vai cazzo vai dino cazzo ok no dai no dai non è possibile cazzo no no faffanculo cazzo 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 mio amico non c'ha parole non c'ha parole forse ci riportiamo un'altra volta poi e al secondo episodio arriverà quindi non cazzo sorgioso la mia fama il nome se no 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 ok signori emilio c'è qua e cosa dice il mio amico? eh? cosa dice? male! son gioco al portico, aia lo sapete che io ci ho messo anni, anni anni a giocare con il gioco di merda c'è io anni, ok? vabbè, ciao signori!